Grazie a tutti. Grazie a tutti. La situazione dopo le dimissioni presentate dal sindaco Mario Bruno, i partiti di maggioranza con il PD e il consigliere comunale del gruppo misto Alessandro Nasone hanno firmato un documento unitario con il quale chiedono il ritiro delle dimissioni di Bruno. Nella nota diffusa ieri da Partito Democratico, Partito dei Sardi, MDP, Campo Progressista, Democratici per Alghero, Sinistra Civica, Lista Bruno e da Alessandro Nasone, non si fa cenno a ingresso in maggioranza, tanto meno da poggio esterno. Un modo per sviare, forse, dai dubbi sorti negli ultimi giorni, perché il PD, nella prima ipotesi, non voleva nemmeno sentir parlare sulla seconda opportunità, invece, ovvero l'appoggio esterno si era messo di traverso il sindaco. Alla fine, però, di fatto, di questo si tratterà, perché i DEM non indicheranno alcun nome per la Giunta e per le partecipate e garantiranno il proprio voto sulla base di alcuni punti precisi già fissati nell'agenda politica. Si va avanti, dunque, nel nome del centro-sinistra, preso atto del fallimento dell'alleanza che nel 2014 ha vinto le elezioni e che vedeva insieme forze politiche di sinistra con liste civiche e due partiti centristi, Udc e UPC. Oggi ci sono le condizioni perché, con il contributo di tutte le forze politiche che si riconoscono nel centro-sinistra, ci possa essere una responsabilità comune e un rilancio dell'azione politico-programmatica dell'amministrazione, scrivono i sette partiti con il consigliere Nasone. Nel documento si citano il piano urbanistico, quello dei litorali e delle borgate, la riscossione dei tributi, la razionalizzazione degli immobili pubblici, la revisione profonda della governance delle partecipate, definiti tutti nodi imprescindibili per uno sviluppo della città a servizio del nord-ovest e dell'isola, come lo sono scelte strategiche sul modello di sviluppo e sugli strumenti necessari, dal parco al porto all'aeroporto. Obiettivo comune, si legge ancora nel documento, è quello di un rilancio economico e sociale di Alghero, che poi deve diventare un centro strategico per lo sviluppo dell'intero territorio del nord della Sardegna. Tutto ciò può venire meglio se a governare la città, nel proseguo della legislatura, vi sarà un sindaco con una maggioranza politica in consiglio comunale, in relazione con il governo regionale del territorio e non un commissario. Un sindaco che senta profonda la responsabilità di condividere le scelte e relazionarsi per una fase totalmente nuova e con un progetto di governo condiviso con le liste civiche e le forze politiche che si riconoscono nel centro-sinistra. Su queste basi, i firmatari del documento chiedono a Bruno di ritirare le dimissioni, cosa che dovrebbe avvenire domani, quando ad Alghero ci sarà tra l'altro il segretario regionale del PD, Giuseppe Luigi Cucca. Ritira delle dimissioni dunque che non è ancora ufficiale ma viene dato ormai per certo, dal canto suo Mario Bruno questa mattina ha scritto un post sulla propria pagina Facebook. Sto cercando di non far commissariare Alghero e secondo voi accetterei che si commissariasse la mia azione politica? No, credo che nessuno lo voglia, in ogni caso non avverrà, si amministrerà insieme, ha scritto. Ho dialogato, ho preso atto di alcune priorità programmatiche che condivido, già peraltro molto in agenda e dialogherò costantemente col centro-sinistra e col PD in un'azione di governo importante e rinnovata degli ultimi 20 mesi di consigliatura. Sono quelli che devono continuare a portare frutto e lo porteranno come da programma. Domani pomeriggio rientro in città, incontro i vertici del PD regionale, provinciale, cittadino, poi se tutto va bene mi recco a portaterra per ritirare le dimissioni, anche perché domenica è l'ultimo giorno utile, ha poi concluso Bruno. E sentiamo ora il commento del consigliere comunale di Forza Italia Michele Paes che parla di messi in scena. Accordo trovato, Bruno resterà sindaco, ritirerà le dimissioni domani, epilogo che vi aspettavate? Sì, dopo 17 giorni dal deposito delle dimissioni e ben 40 mesi dall'inizio della crisi politica di questa amministrazione, perché questa amministrazione è in crisi dal primo giorno del suo insediamento, è arrivato un appello retorico che ci aspettavamo al ritiro delle dimissioni medesime. Un appello da una coalizione che si definisce di centro-sinistra, sovranista ed impendentista, io aggiungerei anche masochista e sadica, perché bisogna essere masochisti e sadici per continuare a infliggere delle sofferenze simili a una città come Alghero e gli algheresi. Ce lo aspettavamo, non pensavamo che ci potesse essere un epilogo diverso, perché il sindaco ha continuato a fare il sindaco nonostante le dimissioni protocollate. Si è trattato solamente di una messa in scena nel più classico protocollo di chi fa questo tipo di messa in scena e che però, dopo 40 mesi di crisi e 17 giorni di dimissioni, ha prodotto il classico topolino. Non ci aspettiamo nulla di diverso dal proseguo di questa esperienza amministrativa che riteniamo comunque essere conclusa. Forza Italia continuerà a svolgere la sua azione di opposizione puntuale e costruttiva. Pensiamo che in questi 20 mesi che ci rimangono a fine consigliatura non si riuscirà a fare niente. Cercheremo in qualche maniera di fare in modo che questa città possa limitare i danni. Nel frattempo ci prepariamo a offrire alla città una proposta politica e di governo certamente di una qualità e di un livello superiore a quello dell'amministrazione Bruno. Sulla situazione politica si sono espressi anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Graziano Porcu e Roberto Ferrara, che dicono all'orizzonte già si palesano coalizioni minestrone, figlie delle orge cui partecipano partiti e partitini che si uniscano con il fine ultimo del vincere le elezioni, non certo del governare. Liti e alleanze, giochi di potere e posizioni prese a convenienza. Fra dimissioni e incoronazioni, il fiume della politica spazza via le esigenze di un'intera comunità e fa gocita tutto nel segno del solo interesse personale. Lo sostengono i due consiglieri pentastellati, Graziano Porcu e Roberto Ferrara, denunciando come all'orizzonte già si palesino coalizioni minestrone, figlie delle orge cui partecipano partiti e partitini che si uniscono con il fine ultimo del vincere le elezioni, non certo del governare. Sia chiaro a tutti, scrivono i due esponenti del Movimento 5 Stelle. Alghero è stata commissariata due volte su due nel corso delle scorse legislature. Sappiamo bene che il rischio, considerata la situazione attuale del sindaco, è che sia commissariata ancora. Se non dovesse succedere, la città galleggerà in un pericoloso e inutile limbo amministrativo. Inutile, secondo loro, giustificare il tutto in prospettiva parlando di centrodestra o centrosinistra, uniti e pronti alla sfida. La scusa non regge. Tedde è caduto per volontà di una forza interna al centrodestra, Lubrano per mano del centrosinistra, mentre addirittura ci sono personaggi che attaccano Porco e Ferrara, che pur essendo nati politicamente in seno a centrosinistra o centrodestra, sono oggi promotori di unioni opposte alle loro radici, in barba a quelle ideologie che sbandierano i 4-20. In pieno guazzabuglio istituzionale è iniziata la corsa, al mettere insieme i più partiti possibili, che nelle prelezioni diverrà a caccia disperata la ricerca del più alto numero di candidati da lanciare nell'arena elettorale. Candidati preferibilmente imparentati, con altri candidati presentati in liste d'are contrapposte, in modo da diluire il più possibile il bacino di voti dei diretti concorrenti o candidati da 20 voti o poco più, garantendo ancora una volta Napoli tornare ai soliti noti. Graziano Porco e Roberto Ferrara però non ci stanno. Ci ribelliamo a questo modo di fare politica che non ci appartiene, ma soprattutto è ormai anacronistico, dicono. Sfiniamo pubblicamente tutti i partiti a presentare una lista unica, 24 nomi e un programma serio che possa essere attuato perché i cittadini di Alghero sono stanchi di aspettare di essere governati. Ci sono un'infinità di problemi da risolvere e meritano amministratori che si preoccupino realmente delle esigenze della comunità. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco. Grande folla ieri nel cimitero di Alghero per la giornata della commemorazione dei difunti alla celebrazione religiosa del Vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino, ha preso parte in rappresentanza dell'amministrazione, l'assessore Raimondo Cacciotto e l'assessora Ornella Piras, presenti anche altri rappresentanti istituzionali come l'inquadrato consigliere regionale Marco Teddi. Al termine della funzione religiosa il corteo si è recato all'interno del cimitero per rendere omaggio ai caduti civili e militari e per deporre un fiore alle tombe dei sindaci di Alghero. Domani invece, sabato 4 novembre, a partire dalle 10, in programma la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, il 99esimo anniversario dell'Unità Nazionale. Da Palazzo Civico di Via Colombano partirà il corteo che renderà omaggio con la deposizione delle corone d'alloro ai monumenti dedicati ai caduti civili e ai militari algheresi nel corso dei conflitti mondiali. Il corteo farà quindi rientro a Palazzo Civico dove avrà termine la cerimonia. Questa mattina invece la sala mosaico del Museo Archeologico ospitato alla conferenza stampa di presentazione di Mondo Rurale, evento che si propone come ponte ideale tra San Michele e Lecadean, tra le iniziative in programma, eventi culturali, enogastronomici e di approfondimento, tutti incentrati sul sostegno allo sviluppo agricolo e alle nuove produzioni. A presentare gli eventi questa mattina al qual te c'erano l'assessore allo sviluppo economico Ornella Piras e il presidente del Parco di Porto Conte, Luigi Cella. Sentiamoli. Anche quest'anno siamo qui a presentare la nuova edizione di Mondo Rurale. Vorremmo infatti che Mondo Rurale diventasse una tradizione, un appuntamento fisso in cui ci fermiamo per ragionare sui problemi dell'agro, sulle tematiche, sulle potenziali linee di sviluppo. Un mondo rurale è chiaramente pensato con chi il territorio lo vive, lo lavora, lo abita. Per questo che il calendario è stato definito assieme ai comitati di borgata, alle associazioni di categoria che operano nel territorio, assieme al Parco, assieme alla Ore, assieme a tutti gli attori coinvolti. Ed è per questo che partiamo dalle tematiche che stanno più a cuore in questo momento, come il piano di valorizzazione, come il problema dell'acqua, come per esempio il problema della fauna selvatica. Ma anche affronteremo potenziali linee di sviluppo, come per esempio la filiera del grano, come una potenziale filiera della carne da costruire a livello regionale tutti assieme. Però Mondo Rurale è anche un momento di festa. Infatti l'inaugurazione di Mondo Rurale sarà proprio questa domenica a Sassegada e a questo proposito siete tutti invitati con Sassegada Produce, dove ci sarà un'esposizione delle principali produzioni, degli antichi mestieri e sarà l'occasione di un pranzo collettivo, tutti quanti assieme, secondo la tradizione. Come Parco siamo molto attenti a tutte le problematiche del territorio e della Nuria di Alghero e molto volentieri partecipiamo a questa iniziativa di Mondo Rurale, delle quali, fra altre cose, siamo stati i primi attori tre anni fa. Cosa vogliamo da Mondo Rurale? A parte la produttività dei terreni, quindi dei territori, la produttività agricola, noi siamo molto sensibili a tutte quelle che sono le tematiche del territorio, tutte le tematiche che riguardano tutti gli aspetti culturali, etici, sociali, paleontologici, archeologici, tutto quanto. Vorremmo che questa Nuria di Alghero, tanto massacrata negli ultimi anni per mille problemi legati un po' alla politica, un po' alla siccità, un po' ai cinghiali, si riappropriasse di quelle che erano le sue eccellenze. Ricordo negli anni, fine anni 60 e 70, quando in questo territorio c'era Consarculi, che era il centro di ammasso del grano, segno evidente che la Nurra produceva, c'era un centro di allevamento di vitelli, ci allevavano circa 250 vitelli all'anno, c'era una scuola di agraria che era un'eccellenza nel territorio isolano, c'era un caseificio, onore allo scomparso Badessi, che era il capo Casaro, che ha portato l'eccellenza dei formaggi della Nurra un po' in tutta Italia. noi vorremmo che la Nurra ritornasse a essere questo e noi ci crediamo, perché gli attuali attori che sono giovani, soprattutto, credono in quello che stanno facendo e hanno bisogno di una grossa spinta da parte di chi nel tempo ha maturato più esperienze. Possiamo dare una mano dal punto di vista di districamento, di problematiche che probabilmente sono solamente, nelle quali può intervenire solamente l'istituzione. siamo con loro quando lamentano il danno dei cinghiali. Ecco, noi siamo qui per questo, siamo qui per cercare di dare una mano a tutti. La cultura del mare e la marineria ad Alghero. Questo è il titolo del convegno, un programma domani alle 16.30 nella sala conferenze del Qualtè, organizzato dal Comitato Museo del Mare, l'Associazione Storie di Alghero, l'Omnium Cultural, l'Associazione Lofruntuni e l'Associazione La Nave Nuragica. l'ha presentato ai nostri microfoni Roberto Barberi, che domani farà da moderatore. Che fine ha fatto la marineria algherese? Possiamo dire che nel convegno in programma domani si cercherà di rispondere anche a questa domanda? Sì, è proprio questo il punto. Sembra quasi paradossale, ma la marineria algherese, che ha operato nei secoli in quello che è stato il più importante mare al mondo per la pesta del corallo, che si è inventata la pesta della Ragosta per cui Alghero è famosa nel mondo, che si è inventata la costruzione di un tipo di barca, la spagnoletta algherese e tutto il contesto che c'è dietro di storia, di lavoro, di religiosità, di fatica, di attività portuali, di cantieristica, sembra quasi svanito nel nulla. Forse perché Alghero deve avere un nuovo look di fronte a un mercato turistico mondiale, eccetera, forse, ma dimenticandosi però che la storia tradizionale, la storia dei mestieri è assolutamente un valore aggiunto e quindi che senso ha perderlo? Abbiamo un museo del corallo che non è completo, abbiamo un'area marina che non funziona, abbiamo un museo del mare che esiste solo sulla carta, dove è finita la marineria algherese? Proviamo a rispondere. Tanti relatori che parteciperanno al convegno di domani? Sì, relatori, ma anche pestatori che arrivano dal mondo della pesta, quindi non solo esperti di storia, di rapporto tra la città e il mare, ma anche proprio pestatori che porteranno la loro esperienza in questo contesto. Facciamo un'altra pausa, tra poco con lo sport. E allora, come detto, ultima parte dedicata allo sport. Anticipo di alta classifica, domani a Maria Pia, alle 14.30, per la sesta giornata di Serie B, si affronteranno l'amatori del Bialghero e il Cus Milano. Entrambe le squadre hanno 19 punti e sono distanti appena a due lunghezze dalla vetta. Nonostante il calendario segni solo la sesta giornata, la gara di campionato di domani pomeriggio tra Amatori Alghero e Cus Milano rappresenta già una sfida di alta classifica. Le due formazioni si trovano infatti al terzo posto con 19 punti e sono intenzionati a incrementarli. Da un lato troviamo la compagine algherese che dopo la vittoria con un ampio 22 a 71 sul campo del Bergamo torna tra le mure amiche per sottolineare di trovarsi con merito nella terza casella della graduatoria. Di contro la formazione meneghina del Cus in cerca del pronto riscatto dopo la pesante sconfitta interna per mano della vice capolista Monferrato 12.32 Il campo di Maria Pia è tuttavia difficile da espugnare oltretutto Daga e compagni sanno quanto sia importante non compiere passi falsi per restare a contatto con la vetta che come detto è distante solo due punti e dunque la portata. Si spera che come nelle altre occasioni ci siano tanti tifosi appassionati domani sugli spalti di Maria Pia pronti a sostenere la squadra algherese che per tutta la settimana ha preparato con attenzione questa partita tutt'altro che facile. La direzione di gara è affidata al signor Riccardo Angelucci di Livorno che alle 14.30 fischierà l'inizio della partita. Parliamo anche di calcio a 5 quest'oggi nel nostro telegiornale lo facciamo con Rossella Soriga che guida la squadra dell'Alghero militante in Serie C femminile buon inizio di campionato con due vittorie consecutive. Con Rossella Soriga ovviamente parliamo di calcio a 5 e Serie C il campionato è iniziato già da due settimane come sta andando? Si il campionato è iniziato già da due settimane a questa parte fortunatamente abbiamo vinto tutte e due le gare una a Nuoro e domenica scorsa appunto in casa e questa domenica ci ripetiamo nuovamente in casa contro Lussana insomma una squadra diciamo ben disposta in campo un po' tosta insomma anche fisicamente però sai noi siamo come ti dicevo poco fa mentre chiacchieravamo siamo appunto un gruppo di amiche che da 21 anni a questa parte nonostante la giovanetta come vedi ha deciso appunto di continuare a dare un calcio ad un pallone divertendosi l'obiettivo appunto principale nostro appunto è questo è questo non abbiamo manie di o insomma obiettivi di promozione anche perché insomma i costi sono quelli che sono quindi ogni anno però arriviamo sempre a giocarci una finale di Coppa Italia una finale di campionato e dico che questo insomma è abbastanza soddisfacente insomma per quanto ci riguarda tanto l'entusiasmo tante le difficoltà a che punto è il calcio femminile in Sardegna guarda io sono anche responsabile FIGC appunto per il calcio femminile in Sardegna e ti dirò che è un po' triste non la situazione perché mi sono tante volte già da due anni a questa parte appunto andando in FIGC e contattando ecco le squadre maschili perché appunto a livello femminile non abbiamo proprio niente vogliandoli insomma a costituire una società appunto di calcio femminile una squadra non una società facendo parte appunto della stessa a costituire appunto una squadra ecco coinvolgere più ragazzi possibile insomma perché comunque diciamo che qualcosina insomma c'è però veramente c'è non ti dico il menefreghismo ecco però veramente non si crede non si crede ancora in questo sport e questi discorsi magari li facevo nel 2000 nel 1999 nel 1980 ecco però nel 2017 insomma nel 2017 ci ritroviamo ancora insomma a fare questi discorsi qua però c'è anche da dire che i tempi sono cambiati anche per le ragazze perché insomma il materiale a mano a disposizione è veramente diciamo esiguo è quello che c'è insomma è veramente poco e poi veramente non c'è la come dirti la responsabilità da parte appunto sia degli addetti ai lavori che appunto anche delle ragazze insomma che trovi di prendersi la briga insomma e di sopportare un campionato ecco se riesci a fare e a costituire che ne so un torneo è fatto tutto in una giornata magari riesci a convolgerli però insomma finisce lì insomma è la cosa appunto non avendo un seguito quindi dici dove vogliamo andare insomma ecco purtroppo parliamo ancora di difficoltà perché in realtà prima mi hai raccontato un fatto curioso riguardante una tua giocatrice americana sì noi quest'anno appunto abbiamo in squadra una ragazzina che è arrivata dagli Stati Uniti come sapete appunto in America si va a scuola ma si mangia anche a colazione il calcio insomma perché lo si studia veramente nei college questa ragazzina è arrivata qui con tantissimo entusiasmo ma veramente credimi viene ad allenarsi con noi usa la bicicletta va in palestra insomma sai quando una ce l'ha nel DNA è così niente ci siamo prodigati per fare il tesseramento giusto per essere proprio concise e venire al dunque ti dico che a tutt'oggi la FIFA appunto non ci ha dato ancora l'ok appunto perché questa ragazzina potesse se non altro da qui a settembre perché va via disputare una gara per tutta una serie di burocrazie di documenti di ma per che cosa mi chiedo io loro mi dicono per la tutela dei minori ok però se io vengo e ti chiedo delle deducidazioni in merito alla norma che tu appunto hai stabilito appunto per la tutela dei minori devi essere anche in grado di darmene credetemi se noi riusciamo a farla giocare insomma da qui alla fine del campionato abbiamo fatto un terno all'otto questa è la burocrazia in Italia tu dici calcio femminile questa ragazza sta venendo qui per motivi culturali per imparare l'italiano e nel frattempo vorrebbe appunto giocare un campionato di calcio a 5 regionale ancora non siamo riusciti infatti ci chiediamo ma magari dovesse giocare insomma la finale della partita dei mondiali insomma una partita importante ma di che cosa stiamo parlando Rossella vogliamo concludere con un appello a tutte le ragazze magari proprio appassionate perché ce ne sono tante di calcio sì ce ne sono ce ne sono tante ecco per dirti ad Alghero non lo so ma credo no? credo perché comunque conosco la realtà però forse non so non credo appunto che se una continua a giocare magari perché appunto ci sono ancora anche questi pregiudizi no ma sai è sempre uno sport maschile una donna che gioca a calcio quindi però che ne so mi è arrivata anche una telefonata di questa ragazza da tiesi che non conoscevo ha avuto il mio numero quindi 28 anni mai giocato è venuta ha provato e vi dirò insomma la metteremo anche lei nelle nostre file insomma e si allenerà e giocherà con noi quest'anno noi siamo a disposizione la porta è sempre aperta ragazzi chi vuol venire siamo ben liete ben liete insomma di ospitarla e di far sia insomma che un qualcosa di più concreto oltre che il calcio a 5 perché appunto noi siamo nate come calcio a 11 ecco se riuscissimo ecco in questo veramente io come responsabile vincerei insomma è maledetta la burocrazia in Italia allora si terranno il 7 novembre alle 18 i corsi per il rilascio della prima licenza da conduttore per le varie discipline automobilistiche l'evento sarà ospitato nella sede dell'Aci di Sassari in via Leado a 32 i vertici dell'Aci di Sassari hanno deciso con questa iniziativa di accogliere le numerose richieste pervenute dagli organizzatori delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nel nord Sardegno sia nel territorio di competenza dell'automobile club di Sassari la tempestività con cui il presidente Giulio Pes e gli altri componenti del consiglio di amministrazione insieme alla macchina amministrativa vengono incontro alle stanze ricevute consentirà agli organizzatori dalla crono scalata su terra di Tandalo in programma Buduzo il 18 19 novembre prossimi di rispondere positivamente alle tante richieste di partecipazione in incontro di martedì interverranno Giuseppe Pirisino Francesco Cozzula e Valerio Renna componenti della commissione sportiva di Aci Sassari per aderire bisogna scrivere entro il 5 novembre quindi entro domenica a ufficio sportivo chiocciolasassari.aci.it indicando tutti i dati anagrafici degli interessati e i diversi recapiti e per oggi è tutto noi ci rivediamo domani grazie per essere stati con noi arrivederci